gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia tutto esaurito tra venerdì sabato e domenica sul litorale romano ostia fregene fiumicino quindi spiagge e ristoranti del litorale laziale presi d'assalto dai romani tra venerdì sabato e domenica tutto esaurito a fregene e maccarese stesso discorso anche a per la festa di san pietro e paolo quindi ristoranti pieni tanta gente finalmente si torna a lavorare così dicono i ristoratori che gestiscono appunto i bar ristoranti sulla costa a fregene distanziamento tra i tavoli rispettati sfruttiamo soprattutto la parte esterna all'aperto c'è voglia di ripartire c'è entusiasmo sia da parte nostra che dei nostri clienti dicono che il telefono fisso e occupato è tutto pieno anche alla playa di maccarese dice non ci fermiamo un secondo risentiamoci più tardi dicono intervistati dai giornalisti la risposta è che insomma una ripartenza che tra tante difficoltà sembra avere intrapreso la strada giusta e questo fa piacere vedere che i ristoranti siano realmente pieni almeno quelli sulla costa che ci sia una parte dell'economia che riparte un'economia che gira di nuovo camerieri camerieri che lavorano cuochi merce prodotti che si vendono gente che spende va bene tutto questo è positivo e fa piacere vederlo e ascoltarlo io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale descrizione gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci